Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono tornato qui con FIFA Street 3 perché il primo episodio è letteralmente esploso cioè avete chiesto in tantissimi un ritorno e siamo ovviamente qui per accontentarvi per cui oggi faremo qualcosa di diverso pensavo di fare le sfide su FIFA Street vediamo un po' cosa offre, non mi ricordo niente dell'epoca per cui sarà anche un piacere a riscoprirle vi segnalo che sì, vorrei portare anche FIFA Street 2 e FIFA Street 1 ma non avendoli al momento concretamente in mano non ho avuto ancora modo mi sto organizzando però per accontentarvi anche sotto quel punto di vista per cui per adesso godiamoci le sfide che partono con sfida giovanile affronta una serie di giovani talenti in questa sfida dunque, io, io seleziona squadra, io posso scegliere o i Mastini Schwarzer, Della, Gattuso e Runei con Viduca oppure gli Scugnizzi che poco hanno di Scugnizzi perché ci sono Wu Hong Earl, Lane, Zhang Hui e Harrison beh, direi che mi tengo i pastini sfida giovanile e partita a segna piccola in 5 minuti penso sia anche abbastanza abbordabile per cui io ho una squadra di campioni posso scegliere Robinson, Schwarz e Robinson Della su Wagner Love Ronaldo, Adriano O'Neu vabbè, allora a me serve un difensore e io O'Neu che l'ho già allenato ai tempi del che era il Chievo poi a certo campo Gattuso che va bene in attacco guarda ragazzi di che stavo a parlare Adriano e e Ronaldo squadra meravigliosa e dunque il Game Breaker l'abbiamo visto l'altra volta cambio giocatore c'ho tutto ho tutto in mente non posso fallire se già me l'avete detto contrasto moderato contrasto aggressivo va bene un ritorno bravissimo Ronaldo qua stava già un po' appesantito perché O'Neu sta davanti O'Neu ti si ma poi perché sono bambini quelli con cui stiamo giocando mi mi sa ecco che ci hanno appena ridicolizzato mi sento anche un po' in colpa a ringhio si stanno a far piangere da questi capito che sono tutti ormai pensionati vai ringhio vai ringhio da tutte le cose che si potevano fare bravo ringhio si eh Adriano Adriano quando ci si mette quando ci si metteva stavolta va bene eh non tocchiamo tasti pericolosi perché sappiamo tutti che youtube è pieno di di cose molto ambigue che lo riguardano ehm nooo bravissimo ma già me l'avete detto perché c'è questo continuo saltiamo sul muro saltiamo sul muro non si capisce bene perché siano tutti i mezzi deformati in questo di facette fecero una scelta stilistica abbastanza discutibile nel rendere tutti un po' un po' su stile gobbo di Notre Dame sono tutti quanti che non è il massimo però Adriano 3 minuti e 40 Adriano ma perché non crossi a nessuno Adriano Onievo Ronaldinho allora Ronald non c'è Ronaldinho perché assomigliava tantissimo Ronaldinho vabbè comunque siamo sul 2-0 le cose si stanno mettendo bene il gamebreaker è vicino Onievo bravissimo Adriano in mezzo alle gambe in mezzo alle gambe Ronaldinho niente è tutti sempre Ronaldinho mi viene quello il bello credo sia il punto è che lo scuro sullo sfondo fa sembrare quello una specie di treccina quella treccina apparente mi porta a pensare che sia Ronaldinho quando in realtà è il fenomeno e quindi chiedo scusa Ronaldo allora andiamo di gamebreaker niente ovviamente bello sta cosa delle delle rovesciate potenti che ma perché non ne hanno fatto una perché questa serie è morta dopo sto capitolo era uno spettacolo FIFA Street io non capisco potevano far foot pure su questo cioè io mi accontenterei cioè sopporterei il foot anche in FIFA Street se ci fosse modo di giocare a calcetto con gli amici perché è un altro modo di concepire il calcio che secondo me è cento volte più divertente specialmente per un videogioco guardalo guardalo andiamo di rovega era tipo gol in automatico la rovesciata devo rimediare i primi due FIFA Street devo trovare il modo di portarveli perché ne ho ne ho veramente bisogno psicologicamente no bravissimo ma adesso a fine partita me lo dici vai Robinson facci sognare Robinson bello bel portiere però c'è c'è da dirlo spero che la difficoltà salga un pelino andando avanti perché potevo palleggiare potevo fare ecco il minchione potevo fare non te fa segnare da questo che ci avrà cinque anni niente vabbè andiamo andiamo l'hai fatto l'hai fatto crossa bene niente e il portiere guarda però spettature non pagante il portiere 7 a 1 mi ricorda qualcosa no allora il portiere è veramente imbarazzante 8 a 1 sta assumendo contorni un po' pericolosi bravo ringhio bravo ringhio tiella lì ringhio se l'alza la sua ma ma oh 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 l'unica cosa che non avrebbe potuto parare per niente al mondo l'ha parata il portiere i paradossi di fifa stretta bravissimo oh oh sì bello vedo delle somiglianze spettrali fra questo portiere e quelli di fifa 19 ma veramente delle belle somiglianze se mi è concesso dirlo poi un'altra domanda ma questo è fra i retro compatibili c'è speranza di beccare qualcuno online perché ragazzi potremmo acchittare qualche partita a patto che i server siano ancora aperti cosa che onestamente dubito però dovremmo informarci sull'argomento e vedere un po' se si può imbastire qualcosa perché avrebbe avrebbe del magico fare avrebbe del magico fare qualcosa al riguardo tra di noi tra la community creare che ne so un torneo di fifa street io la butto là potremmo fare veramente un po' di tutto a patto che a patto che i server siano aperti però ce lo diamo in faccia al gioco bello di capoccia ringio la chiude così 11 a 1 manco che era padova piacenza poracci la chiudiamo con stile no niente ha deciso di parare nell'unico momento che non avrebbe dovuto bene è andata bene premio bronzo partite vitte sbloccato la squadra di strada velocisti ha vinto il premio di bronzo cosa è f50 veterani strada bassi ci sarebbe segnare il primo 5 gol dunque ah ecco devo tenermi questa squadra però cambiamola mettiamo schwarzer difende dellas al centrocampo wagner love in attacco viduca e runei si cambiano tutti gli interpreti io ho veramente paura di vedere chi ho sbloccato c'è c'è runei che fa fa veramente paura vai wayne questa è la prima del trapianto eh vagner love no campo gigantesco questo differenza di quello di prima che era vediamo se se riusciamo e molla sta palla su facciamo i seri qualcuno che va a raccogliere meduca vabbè la la roresciata è veramente fuori fuori parametro come come efficacia di gioco andiamo 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 bravo dellas con i jeans è venuto dellas oggi perché lui è un giocatore differente mamma mia viduca la stecca ce l'aveva però se ben ricordate viduca aveva veramente una gran bella stecca runei come hai fatto a pararla Wagner lo facciamo segnare Wagner il vecchio Wagner l'occhio avesse mai detto che sarebbe ma cosa fai nooo stavo stavo pronto a scaricare di potenza bravo Wagner portiere che para grazie agli istinti sovrannaturali ma chi ma vabbè questo è il classico gioco che devi fare tutto da solo dellas non possiamo pronunciare il primo nome perché con youtube del suo periodo non si sa mai dai due gol e l'abbiamo chiusa due gol e l'abbiamo chiusa due gol e l'abbiamo chiusa vai a raccogliere Wayne vai a raccogliere Wayne bello che devo dire ia molto performante questo se mai se vorrete altri episodi direi che saremo costretti ad alzare un po' la difficoltà per creare un minimo livello di sfida perché adesso è semplicemente mamma mia è semplicemente un modo per fare il gol più bello possibile la chiude lui e il treccina bene Mastini vince ma non che ce ne fosse grande grande allora abbiamo sbloccato la squadra dei giovani per aver completato questa sfida allora che cosa chi c'è chi ci sarebbe volendo sfida marcatora vabbè adesso giusto per vedere le squadre dunque abbiamo sbloccato gli F50 che hanno Podoski Londra Tresede Villa e Nasri poi abbiamo i giovani vabbè sono quelli di prima ah no i giovani sono Carson Richards Adu Nani e Nasri ve lo ricordate Adu sembrava che dovesse essere chissà questo campione del mondo poi in realtà non si ricorda nessuno che fine abbia fatto i bassi sono Castiglio Coupé Daniel Basturk Lennon poi abbiamo gli scudizzi quello di prima i velocisti sono Eto Rekber non mi ricordo chi sia Puyol ma lo dai ci sei vabbè prossima volta eventualmente si va di velocisti e i veterani sono Akansukur Lehmann Wire non me lo ricordo Viera e Del Piero vabbè ragazzi io per adesso vi saluto ci sono no ci sono i classici Ravelli Baresi Zigo Gasconi tocca sbloccare ragazzi tutti i modi Ibra ci sta i difensori i finalizzatori i fantasisti i distruttori free football morientes bei tempi i fuori classe Breme Dida Conti Gattuso i marcatori squadra C Crouch Cail vabbè sono tutti quelli con la C registi i predator squadra R stelle mondo Ronaldinho Marquez vabbè ragazzi c'è veramente una marea di roba comunque niente io vi saluto per il momento vi ricordo appunto che mi sto organizzando per portarvi anche in altri FIFA Street per cui tenete d'occhio il canale nel mentre fatemi sapere se volete che si vada avanti con questo oppure no io vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento alla prossima ciao Grazie a tutti.